e ciao a tutti ragazzi sono l'AedoTech e sono qua in questo vlog insieme a voi grazie mille, 200 iscritti, grande numerone, sono qua con Giulio e il nostro Diego siamo al lago di Braies, panorama veramente stupendo, c'è una location che a dir poco fantastica e niente vi ringrazio ancora tutti voi che mi seguite, siete sempre fantastici anche coloro come Giulia e anche altri che mi lasciano sempre un bel commentone e anche mi fanno richieste nella mia pagina Facebook di LagoTech che vi lascio nella descrizione come al solito siamo qua in riva a questo laghetto lago di Braies, lo ripeto, e ci divertiremo a tirare sassi e a farli rimbalzare il più possibile vai Diego, vai vai mica male bellissimo questo spettacolo adesso tiro io buttei tipo due rimbalzi troppo, mamma mia troppo, se c'era la barchetta quella la in mezzo la prendevo che spettacolo ecco Giulio, ecco Giulio vacca boia, bellissimo, questo l'ho preso in pieno giornata fantastica al lago di Braies, c'è il sole che ci orba praticamente questo qua è il sole ragazzi, è questo qua pochissime nuvole in cielo, c'è una giornata fantastica vacca boia, bellissimo attenzione Giulio ci prova, prova a fare il bagnetto eccolo, e si butta è andato, Giulio è andato caldo Giulio è andato vacca bestia com'è? è ghiacciata mi manca fin il respiro eccolo, eccolo, anche Diego si butta anche Diego si butta, ce l'ha fatta ce l'ha fatta anche lui è freddo, no? è vero vai a recuperare il fazzoletto adesso per voi 200 iscritti fa il bagno anche l'Aidotex e per voi adesso ragazzi 200 iscritti che ringrazia ancora bagnetto anch'io nell'acqua ghiacciata possiamo testimoniare io e Diego che è ghiacciata te lo chiedo ai 200 iscritti fallo 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 finalmente è poco fredda è ghiacciatissima bene ragazzi dal lago di Brais è tutto con Giulio e Diego vi saluto 200 iscritti grazie ancora il bagnetto l'acqua è stata veramente fredda ci vediamo venerdì con un altro video ciao a tutti